La gente matta, forse troppo insoddisfatta, seguo il mondo ciecamente, quando la moda cambia eppure cambia. E poi faccio la domanda. Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più. Bravissima Ministra, complimenti per il coraggio nell'universo a chi vorrebbe dedicarla questa canzone. A mio marito con cui stiamo insieme da 50 anni e che è unico. Se potesse e volesse dedicarla anche alle donne in generale, la dedicherebbe questa canzone? Certo, perché... Anche a quelle che l'hanno contestata, alle femministe in generale. Le femministe, io sono femminista, quindi non ho questo conflitto con le femministe, assolutamente. E penso che questa sia una canzone importante, proprio non a caso l'ha cantata una donna importante come Mia Martini.